Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video oggi vi recensisco il manga di Team Bride che è un manga di Kanami Nami, l'ultimo uscito in Italia di Kanami Nami questo di maggio 2014, edizione italiana 4,30€ all'uno edito da Star Comics per un totale di 4 volumi se non l'ho ancora detto Team Bride è un manga che è uscito dopo Love Baggins e quindi non mi ho fatto ancora la recensione ve la farò anche quella comunque questo manga parla praticamente di una ragazza che si vede tra virgolette costretta a sposare un ragazzo e viverci insieme fin qui ricorderebbe tantissimi altri manga come Lady Kappa Lady Kappa mi sembra che non si sposino però comunque c'è la convivenza tra i due Itazurana Kiss, Happy Mary, ricorda altri manga, cose già viste la particolare di questo manga ovviamente sono i disegni i disegni, principalmente i disegni vi faccio vedere qualche, cioè i disegni sono troppo belli, troppi da shoujo troppo troppo belli, qui poi in fondo c'è uno special di Love Baggins troppo belli i disegni e mi piaceva tantissimo il fatto che fosse un manga corto ma allo stesso tempo accogliesse tutte le cose belle che mi piacciono di Kanami Nami ovvero i disegni innanzitutto il tipo di racconto il fatto che fa ridere quindi troviamo alcune cose che ricordano Wataro Shizumi ma allo stesso tempo con i disegni molto molto migliori secondo il mio parere il manga è composto da soli 4 volumi non si sa se è concluso perché l'autrice è in maternità attualmente quindi non si sa se poi lo continuerà o meno comunque la fine è veramente veramente bella secondo me meriterebbe di essere letto questo manga anche solo per il fatto che è di soli 4 volumi come dicevo la ragazza si chiama Karin Luinao Karin diciamo che gli viene proposta ai genitori di sposare un ragazzo che casualmente frequenta la sua stessa scuola e casualmente lei si è innamorata di lui lei accetta ma poi scopre che lui l'ha sposata solamente per scappare dai suoi genitori e quindi si trova a vivere in una casa con un ragazzo senza amore il trauma più grande per una ragazza penso la cosa particolare di questo personaggio è che non è né povero perché è una ragazza ricca è viziata ma questa dovrebbe essere molto viziata se la tira parecchio però questi sono i componenti che di solito stanno attorno all'antipatica della storia nemica del protagonista questo protagonista non è particolarmente timida non è particolarmente imbranata non è particolarmente stupida quindi veramente è una protagonista un po' diversa secondo me la cosa bella che mi piace è che si vede proprio nel manga il cambiamento della ragazza il cambiamento del rapporto tra i due ragazzi man mano che va avanti la storia non c'è un cambiamento particolare subito di impatto e non c'è un cambiamento diciamo che non si vede nel senso io lo vedo il cambiamento leggendo la storia mi rendo conto che anche il messaggio maschile cambia pian piano ovviamente si sa finiranno per mettersi insieme ma va ci sarà anche un triangolo amoroso con il migliore amico della protagonista questo non è uno spoiler perché si capisce fin da subito quindi tranquilli la cosa che mi è piaciuta sono i disegni alla storia e come diciamo sembra quasi una costruzione di un rapporto tra che ci può essere due ragazzi che si sposano e sono le prime armi comunque con la convivenza anche se non fosse solo che per il matrimonio ma soprattutto per la convivenza due ragazzi completamente diversi che riescono in un certo senso a mettersi d'accordo a riuscire a vivere nella stessa casa con ognuno i vari problemi i propri impegni eccetera però comunque riescono a capire le loro divergenze e a unire le forze per vivere intanto la luce sta cambiando perché sta andando via il sole che è andando brutto vabbè si sa è autunno e niente secondo me il manga è pienamente acquistabile su di 4 volumi quindi diciamo che il manga una fine ce l'ha però secondo me più che una fine può essere detta come cioè da quella fine in poi ci può essere un nuovo inizio oppure finirla lì cioè proprio è una cosa che dici va bene finirla così, giusto? ma ci potrebbe benissimo essere un continuo e immaginarsi questo continuo secondo me se finisse così non se lo farà bene anche male perché forse eviterebbe di rovinare l'opera in quanto andavanti magari caderebbe nei soliti i cliché di tutti i manga shoujo però così non mi dispiace sinceramente è un manga comunque che consiglio perché sempre sono del canale Aminami e i disegni sono qualcosa di bellissimo di stupendissimo di troppo bello cioè guardate che bello che è vi faccio vedere anche se sarebbe uno spoiler però vi faccio vedere l'abito da sposa della ragazza questo è il disegno più bello dell'album secondo me dell'album che bello che è questo disegno non riuscirei a copiarlo neanche se volessi neanche a fotocopiarlo riuscirei è troppo bello questo questo disegno soprattutto per quanto riguarda gli occhi, i capelli, i fiori cioè veramente tutto tutto bellissimo comunque niente per oggi è tutto spero vi sia piaciuto il video ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao